Siamo qui davanti alla sede operativa del Ministero dello Sviluppo Economico per manifestare con l'Area, l'associazione delle emittenti locali per la pluralità dell'informazione. Sono avvenuti dei diritti adesso in questo periodo socialmente con la questione del Covid. Tanti emittenti locali sono stati escluse dai sostegni dati per il Covid e questa è un'ingiustizia. Come in un'ingiustizia vedere, dare, consegnare, valutare la questione dell'auditel all'interno di un sistema molto complesso. Quello dell'informazione è tutela della democrazia e deve essere tutelato dalla politica. Questo logicamente chiede l'Area e chiediamo anche noi di l'ambiente. Perché le nostre emittenti sono editori puri, cioè sono quelli che fanno telegiornale, informazione, servizi, ci mettono la faccia e a volte ci rimettono pure la pelle. Una proprio che viene dalla Sicilia e che ci rimette la pelle, la nostra emittente associata, è Radio Out, dove Peppino Impastato è stato ammazzato per questo. Quindi noi diamo anche oggi un riconoscimento a Peppino Impastato di questa nostra soluzione di ricominciare con mani pulite. Il pluralismo dell'informazione dal nostro punto di vista della Lega è fondamentale. Noi stiamo sostenendo tutto il comparto dell'editoria in maniera assolutamente non ideologica e trasversale. Siamo il movimento che in Parlamento ha di fatto salvato Radio Radicale e sostenuto la cooperativa del Manifesto. Per un movimento che nasce localista e federalista, per noi sostegno il dialogo quotidiano con gli operatori che raccontano il territorio, che raccontano il lavoro dei nostri sindaci e dei nostri consiglieri regionali, è fondamentale. Quindi cerchiamo di dare aiuto a chi finora aiuto non ha avuto e abbiamo presentato un emendamento proprio per creare un piccolo fondo a sostegno di quelle radio ed emittenti locali che sono state escluse dai ristori finora erogati dal governo. Io contrasterò qualsiasi norma di legge o norma in generale che possa defraudare questa funzione, questo importante servizio delle tv territoriali, in modo che possano non solo sopravvivere, ma svilupparsi per svolgere questo ruolo e questa funzione che ritengo assolutamente importante. I consumatori e le associazioni di consumatori hanno sempre contrastato l'auditel, l'importanza che viene data anche dalla politica all'auditel e oggi vengono dati centinaia e migliaia di milioni di euro grazie ai dati auditel e questo cosa ne pensate? Io non entrerei per quanto riguarda il mio ruolo sulle questioni di carattere tecnico o tecnologico, io dico questo, voi dovete portare avanti una battaglia importante per lo sviluppo del vostro ruolo e di questa vostra funzione, avrete tutto l'appoggio dei cittadini e delle associazioni a cui si fa riferimento. Ovvio che il problema dell'auditel pone tante questioni, non solamente alle strutture territoriali, ma nel complesso del nostro Paese, anche nei confronti della pubblicità o meno e della possibilità di averne di pubblicità. Quindi sono perché tutti gli strumenti, le norme, tutte le varie tecnologie che si mettono in campo devono servire solo ad implementare questo ruolo e questa funzione. Qualora non facessero questo ruolo e questa funzione, noi la contrasteremo. Servizi informativi veri, quelli dettagliati, quelli di inchiesta sul locale, quelli che veramente meritano di essere ascoltati, che sono le voci libere della città, della regione, della provincia. Parliamo di tutto l'associazionismo che non avrebbe voce senza le locali, perché nelle nazionali non le aspiterebbero mai. Si sono presi il 95% dei contributi annui, solamente loro, quelle 100 emittenti, che sono emittenti che fanno capo alla famosa lobby della comunicazione interna. Noi dobbiamo, come prioritariamente, abbiamo sostenuto stamattina all'On. Pagano, intanto risaniamo questo DPR con un emendamento che fa giustizia parziale, non totale, parziale delle somme che lo Stato ha destinato a questo settore. Senza chiedere un euro in più non ci può essere una legge di sistema dove il principio è il conflitto, è l'accapparamento delle risorse, questa volta non più economiche, ma quelle dei mezzi di comunicazione. Si prendono le nostre frequenze perché devono andare al 5G, però si dà il caso che le frequenze degli altri, cioè dei famosi lobbissimi, rimangono tali e loro continuano a trasmettere meglio di prima e noi praticamente dobbiamo chiudere. Quindi ci vogliono far chiudere e ci tolgono l'editoria, ci tolgono le frequenze, non ci danno la capacità transmissiva, ci danno questi affitti e a loro dicessero chiaro e tondo quali sono le forze politiche che vogliono farci chiudere e noi rispetteremo la legge se sarà legge, ma io non credo che questa possa essere legge.